Arrivano dalla Bulgaria, dall'Estonia, dall'Indonesia, dall'Italia, dalla Norvegia, ma anche da Polonia, Russia, Ucraina e Ungheria i 17 cori che si sfideranno sino all'ultima nota per conquistarsi il premio Città di Arezzo. La musica polifonica internazionale è infatti pronta ad incontrarsi nuovamente ad Arezzo. Dal 17 al 24 luglio la Fondazione Guido d'Arezzo rinnova l'appuntamento con il concorso polifonico internazionale Guido d'Arezzo che giunta alla sua 68esima edizione porta in città formazioni corali da tutto il mondo. Le competizioni delle vere e proprie olimpiadi per coristi amatoriali si svolgeranno il 22, il 23 e il 24 agosto in luoghi di straordinario fascino come la Basilica di San Francesco, la Chiesa di Santa Maria della Pieve e il Teatro Petrarca che si arricchiscono in questa edizione di un evento del tutto eccezionale che si ripete ad Arezzo solamente ogni 5 anni. Il 24 agosto infatti la città accoglierà la finale del Gran Premio Europeo di Canto Corale nel quale si sfideranno i cori che nel corso del 2018 hanno conquistato i più prestigiosi concorsi europei. Con il concorso infine torna anche il Guideum Festival. Dal 17 al 24 agosto concerti, seminari, incontri caratterizzeranno un calendario che dal canto gregoriano all'opera, dal madrigale al popular music permetterà agli spettatori un vero e proprio viaggio nell'universo delle sette note.